Allora ma guarda questo effetto, tutte carte normale ok? Adesso io voglio provare a fare una cosa di questo genere. Ti chiedo semplicemente di tagliare il loro botto. Sappi che taglierai in punti diversi giusto? Sì. Gira. Gira. Ora di cuore. Chiudi. Questo vuol dire che tagli in punti diversi. Sì. Tagli in cuore. Tutto che giovanile ha un colore di cuore. Sì. Sì. Giusto? Ora vuoi dire di cuore o 10 di cuore. Scegli. 10 di cuore. 10 di cuore. Adesso altra cosa. Sei d'accordo che tu potevi chiaramente a qualsiasi carta giusto? Sei d'accordo no? Sì. Tutte carte chiaramente no. Perfetto. Ora altra cosa importante. La tua carta è 10 di cuore. Mescoliamo le carte in modo che non c'è nessun ordine giusto? Sì. Ma ora mescoliamo anche così. In modo che così sia tutto completamente mescolato. Ci siamo qui qua? Sì. Tutto mescolato. Ora io voglio provare a fare una cosa incredibile. Io lascio qui le carte e ti chiedo di meno tra 1 e 52. Libero. Quello che... 20. 20. Sì. Mi prendo. 1. 2. 3. 4. 5. Giusto? 6. 7. 8. 9. 10. Giusto? 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Giusto? 18. 19. Questa è la ventesima carta esatta. Giusto? Si. Se fosse andata avanti, cambiava il risultato, giusto? Ah. E anche qui è ovvio che cambiava. Sì, la ventesima è questa. Sei d'accordo? Sì, la ventesima. Tutte le carte è casuale, no? Sì. Quindi è realmente la ventesima carta da un marzo. Sì. È quella. Ora, se il miracolo è avvenuto, questa è la ventesima. è la ventesima carta. No. È la ventesima carta. Dai. Io ti ringrazio il buono. Come hai fatto? Bellissimo. Questo è il che sia a camera. Ragazzi, è accostato perché è pazzesco. E io ringrazio la mia mamma per avere... Bellissimo, Stefano.